La gara della verità. Al Matusa di Frosinone, domani il Pescara non potrà sbagliare. Un eventuale passo falso potrebbe risultare letale per le aspirazioni play-off dei Biancazzurri e anche per il futuro di Marco Baroni sulla panchina adriatica. 90 minuti decisivi per rimettersi in carreggiata e riscattare la brutta prova offerta con il Brescia. Baroni aveva detto che sarebbero state tutte finali. Quella di domani in Terra Ciociara è la prima di sette gare da non fallire anche perché c'è un calendario che propone ai Biancazzurri ancora diversi spareggi play-off senza considerare anche la classifica Vulsa che vede il Delfino sfavorito negli scontri diretti con Spezia, Vicenza e Bologna. Una gara insomma quella di domani da vincere per tornare poi a respirare aria di play-off e riportare il giusto entusiasmo in una piazza che non riesce ancora ad esultare dopo stagioni tribolate. Sulle fronte formazione dopo aver recuperato Zampano e Politano, mister Marco Baroni potrà disporre di quasi tutti gli effettivi. Non ci sarà Rossi squalificato. Previste novità a centrocampo con il ritorno di Zuparic al fianco di Memushai. Il sacrificato di turno sarà Brugman con Fornasier che tornerà al centro della difesa con Salamon. Per il resto stessa squadra dell'ultimo turno con qualche possibilità di impiego di pettinare in avanti al posto di Sansovini. La gara dei tanti ex si giocherà in uno stadio semivuoto. Per decisione del giudice sportivo saranno infatti aperte solo le due curve. Da Pescara ha previsto l'arrivo di oltre 400 tifosi. Fra i ciociari mancheranno Soddimo, Manuel Ciofani e Russo. All'andata il Pescara si impose all'Adriatico per 3 a 0.